Marco Travaglio, parole nette e forti quelle della professoressa Foa. Oggi a questo proposito Papa Francesco è stato anche molto duro e ha lanciato un atto di accusa, quelli che ha chiamato i paesi più potenti per la loro vergognosa incapacità di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Perché i paesi più potenti continuano a sostenere Israele nonostante anche le tante denunce delle organizzazioni internazionali in questi 12 mesi? È quello che ci diciamo da parecchi mesi, Netanyahu avanza incontrastato e impunito in un gigantesco vuoto mondiale. Alla Casa Bianca c'è un vuoto di potere, c'è un uomo che non ci sta più con la testa, che ci trascineremo fino a gennaio indipendentemente dall'esito delle elezioni di novembre. C'è la sua vice che nonostante la testa ce l'abbia ancora, praticamente è soltanto una grande ipocrita perché finge di voler fermare Israele mentre non fa assolutamente niente e continua ad armare Netanyahu. Non dimentichiamo che tutte le stragi che ci hanno indignato sono avvenute in gran parte con armi americane. C'è un vuoto in Europa perché l'asse franco tedesco che l'ha sempre pilotata è in mano a due mezzi vuoti cioè a un Macron e a uno Scholz ampiamente delegittimati dalle ultime elezioni parziali e dalle ultime elezioni parlamentari. Quindi il Papa non fa altro che descrivere il vuoto delle teste di coloro che dovrebbero avere delle idee alternative alla guerra del tutti contro tutti, quella che sta scatenando Netanyahu. Il Papa si riferiva anche all'Ucraina ovviamente che continua a maciullare, alla guerra in Ucraina che continua a maciullare migliaia di vittime quando tutti sanno come andrà a finire. Però mentre sull'Ucraina qualcuno sta cominciando a ragionare dopo due anni e mezzo di follia leggiamo che la Nato comincia a valutare l'ingresso dell'Ucraina senza le regioni o una parte delle regioni ormai perdute leggiamo che Scholz è assediato dai suoi uomini perché devono cercare di fare i governi in Turinia e Sassoni e vogliono che nasca finalmente questo negoziato. Sì con Putin perché purtroppo c'è Putin in Russia, non possiamo scegliere noi con chi trattare e chi è il nemico con cui trattare, Macron ha di nuovo cambiato linguaggio nelle ultime settimane e parla di un nuovo ordine mondiale dove ci si dovrà porre il problema della sicurezza di tutti, anche della Russia mentre invece per Israele non si vede nessuno che abbia un'idea alternativa a questo vuoto nel quale Netanyahu si continua a infilare. e ha ragione Anna Foa, noi abbiamo anticipato il suo meraviglioso libro ma che Israele è quello che ingloba e annette la Cisgiordania, Gaza e un pezzo di Libano è un Israele che diventa un paese a maggioranza araba e che tutti i terroristi, quelli veri e quelli che lui chiama terroristi che oggi combatte fuori dai suoi confini se li porta in pancia no, non è che Israele vuole fare un paese a maggioranza araba, vuole cacciare gli arabi è un'altra cosa e il problema è che non se li prende nessuno perché sappiamo che non li prende la Giordania, non li prende l'Egitto chi li prende? Beppe Severnini, oggi il presidente americano Biden che Travaglio definisce sempre come un po' bollito per usare un eufemismo ma si è ritirato per quello mica solo Marco no, lo so, lo so comunque Biden si è ritirato per quello Biden e anche Kamala Harris Biden intanto ancora il presidente americano si sono detti pienamente impegnati per la sicurezza di Israele e ha detto anche che la storia ricorderà il 7 ottobre anche come un giorno buio per il popolo palestinese a causa del conflitto che Hamas ha scatenato quel giorno qual è il bilancio dopo un anno? e dove si va adesso da domani in avanti? allora, bilancio pessimo sarò sintetico perché sta passando l'idea ma anche nelle opinioni pubbliche che la guerra è il mezzo normale di risolvere i conflitti quando sentivi la parola guerra fino a pochi anni fa dai bambini a tutti quindi non il diplomatico ti veniva un orrore adesso è scoppiata la guerra c'è la guerra quindi questa idea è deleteria è perché anche in Italia le persone in una giornata come oggi il 7 ottobre nei giorni scorsi non ha trovato il coraggio di dire che quello che è successo quel giorno è una cosa orribile vergognosa una schifezza tra le più orribili quando sgozzi i bambini davanti ai genitori uccidi le donne e tagli il seno le violenti di fronte ai genitori e ai mariti quella roba lì è talmente spaventosa il mondo che vuole difendere la casa palestinese dovrebbe esordire in questo modo dire partire da qui poi aggiungere tutto il resto il mondo arabo dovrebbe partire da qui avere il coraggio di dire che questo è un orrore perché se non lo fai dai le armi agli altri e quando vedo le manifestazioni in cui non solo non c'è questo coraggio ma addirittura applaudono Hamas è una partenza pessima poi vogliamo dire che la reazione di Israele è stata orribile io in questa trasmissione l'ho detto dieci volte certo ma devi partire da là perché altrimenti non sei credibile Marco Travaglio antisemitismo in aumento lo dice anche l'osservatorio nazionale sull'antisemitismo in Italia che gli episodi sono più che raddoppiati ma cercava di differenziare anche la professoressa Foa è cresciuta l'ostilità verso questa Israele di Netanyahu o l'antisemitismo? ha ragione Anna Foa un'altra volta una volta c'era l'antisemitismo colto l'antisemitismo scientifico adesso c'è un antisemitismo ignorante che fa di tutta l'erba un fascio perché non aiutiamo a separare il glano dall'olio quindi non riusciamo più a spiegare che c'è una differenza tra Netanyahu e Israele tra il governo di Israele e il popolo di Israele tra il popolo di Israele e le comunità israelitiche sparse nel mondo per cui ebrei e Netanyahu è diventato tutto la stessa cosa è un antisemitismo facile da combattere io l'anno scorso appena ne ho visti i primi vagiti ho fatto quel bignamino per cercare di spiegare le differenze ricordava Lucio che non è sempre stato così nemmeno Hamas Hamas per vincere le elezioni nel 2006 perché le vinse a Gaza e anche in Cisgiordania dovette dichiarare che rinunciava al terrorismo smettere con gli attentati e addirittura aprire alla possibilità che lo Stato palestinese non fosse più dal Giordano al Mediterraneo ma fosse nelle terre pre-1967 cioè addirittura più piccole di quelle che l'ONU aveva assegnato allo Stato palestinese nel 1947 a quel prezzo convince la maggior parte dei palestinesi a votarlo e a fargli battere l'OLP che era considerata screditata e corrotta alla vigilia del 7 ottobre dell'anno scorso con quello che è successo in questi anni c'è stata una guerra civile tra palestinesi si sono sterminate le milizie di Hamas e le milizie dell'OLP e quella guerra civile è stata vinta con metodi feroci da Hamas a Gaza a Gaza gli uomini di Hamas buttavano giù dai tetti delle case più alte gli uomini dell'OLP e gli uomini dell'OLP in Cisgiordania gli rendevano la pariglia dove hanno ammazzato addirittura dei deputati di Hamas per riprendere il potere contro quelle elezioni era il 2006 dal 2006 a oggi c'è stato il fallimento dell'ultimo tentativo di pace di Olmert nel 2008 e poi il risultato è stato il primo, il secondo per la verità governo Netanyahu nel 9 dopodiché non c'è stata più soluzione di continuità praticamente ma purtroppo tutto ciò di cui noi parliamo oggi è il frutto del fatto che non si può considerare Hamas come un monolite che è sempre stato così come non si può considerare Israele come un governo che è uguale a quegli altri non è affatto uguale a quegli altri è il primo governo della storia di Israele che non si pone più il problema dei palestinesi persino Sharon se l'era posto abbandonando Gaza nella sua brutalità un'idea ce l'aveva persino Sharon il primo che non ha un'idea è proprio Netanyahu o forse l'idea ce l'ha forse l'idea ce l'ha sì Beppe sì Beppe però sono 5 milioni di persone che non possono sparire i due stati ogni modo di avanzare verso questa soluzione mi sembra che lo stia ormai sia io penso che non accadrà più a questo punto volevi chiedermi?